Eccoci nuovamente qui al Salsedine, siamo adesso con due danzatrici. Sono delle veterane loro, sono venute tante volte a Danione di Carta, hanno fatto tantissimi eventi di vario genere, non soltanto musicale, hanno partecipato a dei video che abbiamo pubblicato e hanno riscosso veramente un grandissimo successo. Eccole nuovamente per voi, Sara e Loredana. Ciao Manuela, grazie a tutti, è un piacere essere di nuovo qui con te. Abbiamo fatto diversi eventi insieme, sono stati tutti fantastici. Questa sera siamo un po' emozionate perché dopo tanto tempo, insomma, così costrette a lockdown, finalmente ci torniamo a desibire davanti a un bel pubblico. È vero, bel pubblico ma soprattutto caliente, vengono da tante parti diverse. Cioè comunque considera che c'è gente che si è fatta chilometri e chilometri per essere qui oggi e festeggiare insieme a noi questa rinascita della musica e dell'arte. Sì, è vero. È un piacere per noi condividere con tutte queste persone quella che è la nostra arte, che è la danza medio orientale. E questa sera faremo tre stacchetti. Uno insieme, l'abbiamo preparato, è una coreografia contemporanea pop, tradizionale. Poi a seguire Loredana farà il suo pezzo e ve lo esporrà a lei. E infine io farò un Saidi, che è una danza folkloristica, che risale all'Alto Egitto. E una danza con il bastone, quindi è una cosa un po' particolare, spero che vi piaccia. Sicuramente ci piacerà. Adesso passiamo il microfono a Loredana. Oggi abbiamo iniziato la danza con un gruppo di ragazzi, erano in sette, hanno fatto veramente delle cose eccezionali lì giù, perché erano in tante, quindi si sono spostate lì. Voi dove vi esibirete? In quali punti della sala? Abbiamo pensato di esibirci in quel punto là, sotto il palco. Sotto il palco, quindi appena inizierà la musica potrete vederle direttamente qui. Loredana, che ci dici? Come hai passato questo periodo? E soprattutto, quali progetti per il futuro? Allora, i progetti sono tanti, perché abbiamo veramente tanta voglia di tornare a danzare. Anche qua, con anime di carta, sicuramente parteciperemo ai prossimi eventi che organizzi, perché ci fa sempre piacere, ci è mancato veramente tanto. Adesso oggi è una grande emozione, insomma, tornare a ballare. Io sono stata ferma un anno e più, perché è da gennaio dell'anno scorso che non faccio esibizioni in pubblico, e quindi sarà molto emozionante. Ho deciso di ritornare con un pezzo di Sharky Classico, proprio per riprendere la danza, insomma, nella sua classicità, e poi ovviamente farò il pezzo insieme a Sara, che ha già descritto. Bene, allora io vi ringrazio, iniziamo subito con questo stacchetto di danza, e dopo ci saranno gli allievi e gli allievi di Anna. Vedo che infatti stanno ancora preparando il palco, così almeno ce l'avremo libero per voi. Due secondi e le potrete vedere.